Carissimi telespettatori ben ritrovati, oggi torniamo a occuparci dell'autonomia differenziata che è il tema politico caldo di questa fase. Come si temeva purtroppo la discussione si è praticamente ideologizzata, con posizioni che vengono mai recitate quasi a memoria come se fossero un disco rotto. Il centrodestra difende a spada tratta questa riforma anche se al suo interno non mancano dubbi, non mancano perplessità come quelli che esprime il presidente della regione Roberto Chiuto che però è assolto, poi è ingabbiato dall'appartenenza più che al suo partito dall'appartenenza alla sua coalizione. Dal suo canto il centrosinistra continua a parlare di riforma che spacca l'Italia e che brutalizza il Mezzogiorno e la Calabria. In pochi in realtà si stanno occupando un po' del merito della questione. Il tema inoltre ha anche provocato uno scollamento abbastanza evidente tra i sindaci calabresi. Questo è emerso soprattutto dall'ultima assemblea del lanci regionale all'Orica, assemblea che anche questa è stata alla fine politicizzata e infatti si è conclusa senza una posizione unitaria e univoca dei sindaci. Onestamente non è un bellissimo spettacolo, speriamo che quanto prima i sindaci riusciranno a parlarsi tra di loro e soprattutto a parlare una voce unica. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!